ciao sono pino insegno voi sapete perfettamente che io ho fatto della mia voce il mio corpo ma la voce quello che voglio dirvi si può costruire è come il fisico quando uno va in palestra no per fare addominali uno mangia bene sta attento fa gli esercizi è lo stesso della voce la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo ma non è la bella voce ricordate sono le giuste intenzioni che uno utilizza con la voce noi abbiamo due piccole corde vocali di un centimetro che vanno proprio salvate vanno aiutate vanno gestite e si può fare uno studio esatto e leggere ad alta voce e anche risentirsi fa bene prendi confidenza con la tua vocalità perché nessuno di noi accetta la propria voce e c'è un motivo non siamo educati a risentirci non siamo abituati a sentirla la nostra voce e ad aggiustarla perché io posso parlare così posso parlare così posso parlare così non è che quando io sono nato ho fatto uè uè no l'ho costruita poi ovviamente se non devi fare l'attore puoi anche saltare qualche passaggio ma la voce serve sempre perché devi comunicare qualsiasi cosa tu faccia come esiste per gli insegnanti il nodulo dell'insegnante per cui un insegnante che parla tutto il giorno all'ultimo il giorno dopo allora ragazzi pagina 12 e uno non ti ascolta si può salvare tutto questo ecco questa è una piccola introduzione per dirvi quanto è importante leggere leggere ad alta voce e anche risentirsi